Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 4 Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto i commenti che ne pensate Detto questo vi lascio il video e buona visione E ragazzi torniamo a parlare di The Sims 4 nello specifico dell'argomento che amo Ovvero il fatto che questa espansione si mescia con tante azioni, tante aggiunte agli altri DLC che abbiamo avuto Dall'inizio fino a questo punto su The Sims 4 È una parte un po' misteriosa ragazzi perché come vi ho detto ho avuto la possibilità di giocare l'espansione con il gioco base Ma non ancora con gli altri DLC per quello ragazzi dovremo aspettare il 13 Quando poi installerò la mia versione di OASI nevata insieme agli altri e potremo studiare insieme tutte le novità E quindi ragazzi c'è ancora un alone di mistero su questa espansione Sembra che la conosciamo ma non è così In realtà siamo solo a metà strada Ci sono tante domande che mi vengono in mente Come funzionerà con le stagioni piuttosto che con i vampiri Perché non ho ancora tagliato i miei capelli Insomma ci sono tante cose ragazzi che stanno riempendo il mio cervello nelle ultime ore Ma spero soprattutto della terza domanda di porre rimedio quanto prima Scherzi a parte ragazzi ringrazio Sims World perché nella sua pagina Facebook E ragazzi vi lascio il link di tutte le fonti qua in descrizione Ha tradotto e soprattutto carpito alcune informazioni che abbiamo anche già avuto Durante la live stream che abbiamo visto dei SimGuru Tanto che ci sono già alcune cose che noi sappiamo che questa espansione avrà in combo con gli altri DLC E ragazzi ora ve le faccio vedere giustamente tanta tanta roba La prima ragazzi vi confermo che la struttura ad arrampicata di fitness staff avrà la sua abilità dedicata Quindi sì ora abbiamo delle palestre più funzionari Anche e soprattutto lo staff pack diventa funzionale E ha senso e questa cosa mi piace tantissimo Altra cosa molto molto divertente ragazzi Che i Sim Schifiltosi si rifiuteranno di andare a dormire nelle caverne E questa cosa mi piace tanto perché effettivamente sono Sim di un certo tipo E la stessa cosa per quanto riguarda i vampiri Ovviamente non verranno minimamente scalpiti dai pipistrelli Ma anzi probabilmente si sederanno tutti insieme nella montagna a brindare Perché effettivamente beh sono i loro cuginetti Quindi ragazzi di conseguenza noi sappiamo che i vampiri saranno immuni agli attacchi dei pipistrelli Anche perché in realtà ragazzi che fai? Vai ad attaccare il tuo cugino? Non avrebbe senso Un'altra cosa molto importante ragazzi riguarda invece la meditazione Soprattutto lo stato ultimo dell'abilità che ritroviamo con un giorno alla spa Oltre al fatto ragazzi che questa espansione e un giorno alla spa hanno una combo secondo me micidiale Perché mi immagino già di fare delle terme con tutte le cose della spa Effettivamente ragazzi massimizzando l'abilità di benessere Noi possiamo teletrasportarci E questa cosa come giustamente ci ricorda Sims World È la vita dal momento che possiamo teletrasportarci durante tutte le fasi della montagna E sicuramente evitarci un bel po' di lavoretti È una sorta di cheat Ma in realtà potrebbe anche essere visto come un premio per la meditazione Quindi in realtà dai ci può stare Oltretutto ragazzi i sim che avranno il nuovo tratto avventuroso Potranno avere dei bonus Dati da cose avventurose Come utilizzare le moto d'acqua O gli oggetti di vita sull'isola E questa cosa è fenomenale Tanta roba mi piace perché a questo punto abbiamo anche una sorta di motivo Per cui utilizzare quelle cose Oltre al fatto che giustamente rientrano negli sport estremi E diventa divertente anche solo per quello Altra cosa ragazzi Quando noi selezioniamo lo scenario di vacanza per andarci E ragazzi sicuramente io l'ho visto ma mi è sfuggito Quindi in realtà sono contento di fare questo video Perché ve lo dico sinceramente Ho provato l'espansione ma qualcosina probabilmente mi è sfuggita Per una questione di distrazione Piuttosto che di fretta Piuttosto che di altri motivi Quindi non sto qua a dirvi che vi posso dire tutto tutto Magari certe cose mi sono sfuggite Quindi ringrazio sempre di avere news e info un po' a giro Perché comunque mi aiutano anche a trarre un po' le conclusioni Mettere i puntini sulle i e portarvi una visione Quanto più completa di quello che abbiamo davanti In questo caso ragazzi come dicevamo Se tu vai a cliccare su un lotto di vacanza Ti dirà la schermata le cose di grande interesse Quindi se noi andiamo a Willow Creek ci sarà che so il museo Il bar La palestra Quindi per ogni scenario questa cosa è molto carina Avremo una sorta di guida sui punti di interesse E questa cosa devo dire che mi piace tanto Un'altra aggiunta che mi piace tantissimo ragazzi Riguarda le carte dei vuotomostri Che ora grazie a Oasi Nevata I sim bambini potranno prendere dalle macchinette Tanta roba ragazzi La semplicità è un po' la stessa cosa che ho pensato Quando ho visto il portasapone Lo so ragazzi Sono cose stupide Eppure sono quelle dinamiche di gameplay Che dice ok Gashapon dopo la collezione dei Gashapon Proviamo a collezionare le carte con i bambini È un'altra attività per i bambini Ve l'ho detto Una cosa che ho apprezzato particolarmente di questa espansione È l'attenzione che si è data anche alle fasce più piccole In questo caso i bambini Devo dire che ho apprezzato molto Un'altra cosa che lega Oasi Nevata a Nuove Stelle È il fatto che facendo le escursioni in un certo modo Quindi massimizzandole e facendole per bene Noi diventeremo famosi Vi ricordo che abbiamo visto Che possiamo registrare anche dei video In realtà durante le nostre peripezie con lo snowboard E non vedo l'ora di farlo nella serie di let's play Quindi ragazzi ancora una volta anche questo si mesha bene Siamo bravi Siamo dei bravi scalatori E allora ci meritiamo un po' di fama E devo dire che è una buona aggiunta Vediamo un po' come sarà fatta Perché sono molto molto curioso di capirlo Però devo dire che non mi dispiace affatto Ma ragazzi qua arriviamo al must Qualcosa che effettivamente è tanta roba Quando io vi ho detto Ragazzi pensate alle escursioni con i bambini Con i toddler Con gli animali E ragazzi è stato confermato Se noi abbiamo di Sims 4 cani e gatti Potremmo andare a fare le escursioni Con il nostro cane e il nostro gatto Probabilmente col cane solo Non lo so eh ragazzi Perché effettivamente si presuppone che tu abbia il guinzaglio Quindi non vorrei dire castronerie Ma sicuramente col cane sì E questa cosa è molto bella Perché di base abbiamo una nuova funzione Aggiunta in cani e gatti Cioè la possibilità di andare a giro E fare dei percorsi Io vi ricordo anche che nel debug L'abbiamo visto Noi abbiamo la nostra bella strutturina Effettivamente quella che ci dice Vai a fare una passeggiata con Vai a fare una passeggiata al tempio Eccetera eccetera Vi ricordo anche che il monte Komorebi È uno scenario dato da lotti comunitari Residenziali Ma abbiamo visto delle aree molto molto grandi Quasi open world Percorribili Dove i nostri sim appunto Quell'interazione di andare a fare una passeggiata al tempio Piuttosto che Fare una passeggiata a salutare Piuttosto che altro Vanno appunto a giro Ora Questa cosa che vi sto per dire È una cosa che testerò tipo instant Il 13 Ovvero Se noi imprendiamo dal debug Quella bacheca Quindi la bacheca del monte Komorebi La posizioniamo in un lotto 64x64 Quello più grande E diciamo ai sim di andare a fare una passeggiata Loro dove andranno? Perché ragazzi In base ai movimenti dei sim In base al fatto che loro si allontanino Più o meno Da un punto all'altro Beh ragazzi Si mette la bacheca Si fa l'interazione Si segue il sim E poi ragazzi Ci possiamo buildare sopra In modo tale Da non farlo incastrare Nella nostra build Quindi Si prova l'interazione E poi Se il suo movimento Rientra in un lotto 64x64 Beh allora A quel punto lì Io posso fare un cartello Dal debug E chiedere al mio sim Di andare a fare una passeggiata al tempio Ma non per forza Deve essere il tempio Del monte Komorebi Se io sto Buildando E lavorando sull'otto 64x64 Potrei fare Una montagna Un percorso Che lo porta Dal punto A Al punto B E il punto B Quindi L'arrivo Potrebbe essere Un tempio Fatto dalle rovine Di Usciamo Insieme Piuttosto che di Selvadorada Piuttosto che di Sulani E così via Quindi io spero Che questa cosa sia fattibile E' un po' la stessa cosa Che riguarda Le piste da sci Noi nel debug Abbiamo tutti gli strumenti Per fare le piste da sci Ovviamente ragazzi Dovete anche pensare Che ci deve essere La neve Ma se io uso Un lotto 64x64 In uno scenario Random E lo uso D'inverno Quando nevica E' possibile Fare le interazioni Con lo sci Anche che so A Winterburg Piuttosto che a Willow Creek Queste ragazzi Sono domande Che ancora non hanno Una risposta Ma che cercherò Di trovare Quanto prima Quando avremo tutti i DLC Io cercherò di mettermi sotto A studiare queste cose E capire se sono fattibili Ecco perché vi dico Il lavoro è solo a metà ragazzi Noi stiamo parlando di Oasi nevata e basta Quando avremo tutto Fra le mani Allora potremo capire Le effettive potenzialità Di un cartello Quindi se è possibile Fare delle escursioni In tutti gli scenari Piuttosto che Sport estremi In tutti gli scenari E così via Quindi ragazzi Sono molto molto felice Perché in quel momento lì Capiremo davvero Quello che c'è da fare Quello che si può fare Anche per spingere al limite Le stesse dinamiche Di gameplay Di questa espansione Ma ragazzi Quel momento arriverà Fra un bel po' di tempo Al momento ci godiamo Questa espansione Continuiamo a vedere Le news Le info Le indiscrezioni E speriamo bene Che tutto quello che vi ho detto Sia possibile farlo Perché al momento È solo un grande punto di domanda Ma detto ciao ragazzi Vi dico che per questo video è tutto Io vi ringrazio Per essere arrivati fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto E vi ricordo anche Che qua a schermo trovate il canale Se volete iscrivervi Anche il video consigliato Io come sempre Vi do l'appuntamento Alla prossima Vi dico Ciao a tutti Ciao a tutti